In A11 in direzione Pisa, 3 km di coda tra Montecatini e Chiesino Uzzanese per incidente. Coda in uscita a Montecatini Terme in direzione Firenze, 2 km di coda tra il Bivio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola e tra Prato Est e il Bivio per l'A1. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori della tramvia fino a fine ottobre, restringimenti per lavori in via Gordigiani via Buonsignori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!